sì dico iniziamo questa quarta settimana e dammo uno sguardo una lettura a tre lunghi capitoli che sono il 29 il 30 il 31 intanto vi mostro lo schermo ecco così si vede meglio ecco io vi propongo diversi testi però ho questa settimana e tanti testi diversi ma non è che dovete poi meditare su tutti potete seguire uno o due come abbiamo già detto prima vi avevo detto di leggervi questi capitoli perché sono un po lunghi però su tanti storielle un po complesse ecco io dare qualche flash qualche spunto ma non posso spiegare tutto perché sarebbe troppo ecco allora questi tre testi l'arrivo di giacove alla casa di labano capitolo 29 versetti del primo 14 poi il rapporto tra giacove e labano soprattutto quella parte che sottolineo lì capitolo 29 versetto 15 al 30 30 43 vabbè quello sarebbe tutto però poi nelle nel foglio vi segno proprio la parte che sarebbe più interessante e la fuga di giacobbe sono quelli tre che io un po vi sottolinea di più per meditare ma ci sono questi altri la luce la lotta delle due sorelle la strategia ma dove stiamo il patto che vi li offro anche vi dico qualcosa poi vedete voi no vedete voi quale può essere più adatto a voi più interessante questa volta c'è tutto un una rossa di testi diversi ecco il primo è questo arrivo giacobbe finisce il suo viaggio con gioia e emozione e lavano che sarebbe lo zio fratello della mamma lo accoglie con ospitalità perché lui della famiglia e poi qui inizia tutto quel rapporto che poi parleremo di del nipote con lo zio no di giacobbe con con questo la mano che modo interessante ecco su questo su questo primo brano che trovate tutta una storia lì delle pecore del pozzo quando lui arriva e scorre la pietra che copriva il pozzo contro i convenzionalismi del posto bassa rachele senza conoscerla una cosa inaudita nell'epoca anche se giustifica per l'emozione perché hanno parenti perché lui dopo questo lungo viaggio finalmente trova ecco la cugina si mette a piangere sicuramente c'è una grande emozione ma forse anche un po di furbizia come già stavo un po imparando e questo giacobbe un tipo abbastanza abbastanza furbo diciamo ecco lavano la coglie con gioia lui corre lo abbraccia lo bacia riceve giacobbe con fiducia nonostante che dice lui li racconta quello che è successo non sappiamo esattamente cosa li racconta perché la storia potrebbe diciamo essere un po sospettosa per la mano questo cosa ha fatto che fa qua perché ha dovuto fare questo lungo viaggio che sarà successo però comunque lui dice no no tu sei il figlio mia sorella viene li accoglie ecco quindi un passaggio che ci parla di ospitalità fondamentalmente e qui potremmo chiedersi no visto che l'ospitalità anche una caratteristica del carisma oblato essere vicino alla gente vicino ai più abbandonati i più poveri possiamo chiedersi appunto queste queste domande qua che poi ve le ripeto alla fine sono una persona accogliente la mia famiglia accogliente sono affettuosa affettuosa freddo o fredda nelle mie espressioni vado a cercare l'altro lo stile missionario è parte del carisma oblato quindi fare il primo passo amare per primi anche papa francesco sottolinea questa cosa no approfitto di tutte le occasioni per andare verso l'altro per metterlo in dio questo dovrebbe fare un missionario no andare verso l'altro per metterlo in dio lo dico così no mettere in dio può essere tante cose non è necessariamente l'annuncio esplicito di gesù cristo non può essere metterlo nell'amore può essere semplicemente una parola un sorriso confortare aiutare tanti tanti modi non di testimoniare l'amore di dio la mia comunità aperta possiamo pensare perché della me nella sua comunità mi perché appartiene altri gruppi ma la sua nel suo gruppo nella sua parrocchia ecco chi viene da fuori si trova al proprio agio sono domande importanti da fare no quindi qui diciamo questa figura di la mano almeno all'inizio che una persona accogliente può essere un modello per noi se andiamo avanti il secondo testo che anche tutto una lungo diciamo così lungo brano si parla di questo rapporto tra giacobbe e l'alba ecco e qui c'è tutto una un intreccio di cose interessanti che ci possono anche un po scandalizzare ecco e io vi dicevo di sospendere il giudizio etico l'altro giorno e qui è importante perché giacobbe abbrato le mogli e sposa una poi sposa la sorella poi viene qui c'è tutto come dire un intreccio a vedere chi è il più che il più furbo lo zio l'ipote quindi non sono figure diciamo esemplari un modello in questi testi qua finora abbiamo visto come giacobbe era qui lui che imbrogliava imbrogliava il papà il fratello e lui prendeva un po' l'iniziativa per truffare e in parte sembra seguire la stessa linea lui c'è stato un mese di ospitalità dopo un mese diventa una presenza stabile e l'Avano li propone rimanere ecco e vuole e vuole offrire qualcosa di giacobbe che era pastore stava diciamo lavorando anche con gli animali di dello zio li propone di darle qualcosa a cambio il suo lavoro giacobbe che nel frattempo si è innamorato di rachele che la figlia piccola si propone un po di sfruttare anche questa situazione come sembra fatto un po per loro per il suo interesse allora non chiede soldi ma chiede la ragazza come sposa nella prassi matrimoniale di quel tempo prevedeva che all'atto della stipulazione dell'accordo matrimoniale sospendiamo giudizio etico detto no perché in quel tempo come succede ancora purtroppo in alcuni paesi orientali ecco io sono stato al sara anche lì così tante volte i matrimoni non sono matrimoni purtroppo dicono per amore no ma sono accordi no tra le famiglie tra i denitori tra i nonni che si mettono d'accordo ecco allora in quel tempo era previsto che il futuro sposo versasse una somma di denaro alla mente potestà sulla sposa che si chiamava mua che veniva considerato proprietà della sposa quindi lo sposo dava questo al papà e poi una volta che si sposavano questo denaro passava alla sposa di fatti questo si parla dopo nel capitolo 31 versetto 14 sia rachele che lia si lamentano che il papà sia preso nostro denaro dicono loro no perché di fatto nel loro caso la somma di denaro era stata sostituita dal servizio che giacove doveva fare a a lavano cioè quello che lavano gli propone lavora sette anni per me e questo sostituirsi diciamo quella quel denaro che dove sfida ma io ti darò la mia figlia come sposa ecco dice appunto così giacove servì sette anni per rachele e gli sembrano pochi giorni tanto era il suo amore per lei no vabbè un tocco romantico si voleva in queste storie un po ecco quindi anche giacove è uno che ha un cuore non si innamora e ebbene e questo è importante no anche ci dice qualcosa pure a noi no che tante volte la stanchezza non dipende tanto del dell'energia in sé o del lavoro in sé ma delle motivazioni se facciamo le cose per amore per vero amore non ci stanchiamo come giacove no che dice mi sembrano pochi giorni forse ci stanchiamo fisicamente però non ci stanchiamo nell'anima questo è una cosa anche che dice papa francesco nella evangeli gaudio molto interessante no dice lui dice il problema non è sempre l'eccesso di attività ma soprattutto le attività vissute male senza le motivazioni adeguate senza una spiritualità che per me le azioni la renda desiderabile cioè se noi abbiamo questo amore vero per dio quando facciamo qualcosa per dio non ci stanchiamo magari stanchiamo fisicamente però se questa motivazione profonda che ci che ci aiutano c'è una fatica serena non c'è una fatica pesante e c'è una fatica serena quando uno dice ok sono stanco però sono contento perché fatto a questo che vale la pena questo per fare una lettura no anche di questa di questo versetto no di di questo qua e il testo va avanti e c'è tutta una cosa interessante che praticamente in quel tempo la sposa era velata quindi non si vedeva la faccia la portano nella tenda tutto questo già dopo questi primi sette anni e che è successo è successo che il papà ha detto vabbè però non è giusto sposare la più piccola quando la più grande non è ancora sposata quindi lavano truffa pure e scambia le fili e le dà la grande e questi qua fanno prima notte insieme al mattino giacobbe si rende conto che che non è rachele la quale lui era innamorato ma è l'altra elia e quindi si lamenta e dice ma che è fatto che è successo allora lavano dice vabbè intanto finiamo la settimana delle nozze perché le nozze dura una settimana quel tempo erano grandi feste e poi ti do l'altra però mi devi lavorare altri sette anni perché ormai già si deve tenere tutti e due quindi giacobbe che pensava di essere diciamo il più furbo lo zio vinse no quindi lo sfrutta li fa lavorare non solo sette anni ma quattordici anni e riesce anche a sposare anche l'altra figlia che si vede che nessuno la voleva perché era più grande ma ecco questo possiamo anche chiedersi magari mi sono sentito qualche volta sfruttato pure io imbrogliato e qual è stata la mia reazione ecco qui sicuramente è una cura di umiltà per giacobbe no perché lui inizia a capire che in fondo non è lui l'unico che sa ingannare e imbrogliare andiamo avanti e poi c'è tutta una parte che sarebbe la lotta delle due sorelle quindi sono tutti e due spose di giacobbe ma rachele non può avere figli invece li ha tanti figli dopo che li ha mi pare il sesto figlio rachele non ce la fa più e vada giacobbe le dice questa cosa qua no dammi figli se non muoio e divene gelosa della sua sorella poi fanno anche una cosa dice vabbè fai il figlio con la schiava e poi insomma faccio come se fosse mio l'adotto insomma ecco tutta una serie di di cose qua no su questa su questa parte vorrei sottolineare un po quello che la gelosia la gelosia la invidia tante volte il confronto non sono come l'altro non sono come l'altra vedi questo qua ma io in fondo sono cose che a volte ci siamo noi stessi e può essere anche cose che sono molto nel profondo del nostro cervello ecco che magari vengono anche dalla infanzia così no ecco io non sono come gli altri valgo di meno sono più brutto sono meno intelligente sono ecco questo questo confronto che a volte continuamente noi facciamo e senza considerare la bontà di quello che siamo ognuno siamo diversi con i nostri limiti ma anche con i nostri talenti e dio ci ha fatto così e dio ci vuole così ecco la gelosia poi ha tante sfumature no si può anche cammuffare a volte accusando all'altro di fatto se entriamo un po nella destra di rachele lei forse pensarebbe no non basta che si che si è presa il mio marito era di lei che era che doveva spostarsi non l'altra no sì è vero a metà diciamo perché in realtà non è stato lì a no diciamo fa la cosa è stato papà e sono queste mezze verità no che noi a volte usiamo un po per giustificare a volte ci convenziamo noi stessi delle nostre proprie mezze verità per difendersi noi stessi no e dare la colpa sempre all'altro sempre l'altro che che ha la colpa no però magari al problema a volte ce l'abbiamo noi non è che ce l'ha che ce l'ha l'altro no incolpare noi stessi no a volte io mi faccio colpa una cosa che in realtà non è responsabilità mia possiamo avere una bassa autoestima o anzi quello che i psicologi chiamano a volte non bisogno di umiliazione che ancora più dannoso è proprio ti deve no come dire punire a te stesso bastonare continuamente no queste cose dio non le vuole dio non le vuole bene qui diciamo ci sono tante cose che possiamo chiedersi no ecco nel passaggio ci sono due casi di gelosia no un po i favoritismi di giacobbe è bello che giacobbe voleva più bene rachele però rachele poi non è contenta no sembra che dovrebbe essere lì a un po a lamentarsi beh sarà che non è contenta perché non ha figli no però invece ha l'amore del marito ecco quindi a volte non siamo mai contenti no se abbiamo una cosa vogliamo quella che albicino come si dice no l'erba del vicino è sempre più più verde della nostra ecco poi se andiamo avanti c'è tutta questa strategia col bestiamino ecco è un passaggio un po difficile di capire un po strano per noi perché non conosciamo bene la cultura e l'abitudine di questi pastori la storia seminomadi dell'epoca per farla breve potremmo dire che gli imbrogli continuano dalle due parti da parte di giacobbe e da parte di lambano e tentano un po di contrattare no vediamo chi vince un po questa contrattazione anche tipica un po degli orientali no entrambi giocano con i suoi interessi no la mano vuole che giacobbe rimanga perché è un buon pastore è un ottimo pastore e lui vede che le cose migliorano da quando giacobbe è con loro giacobbe invece vorrebbe essere indipendente avere il suo credo in proprietà non essere sempre dipendente dallo zio anche perché già c'ha le due moglie e lui vorrebbe anche ritornare in patria qualche volta però deve avere qualcosa se no come fa e quindi c'è tutto questo imbroglio e prende le pecore strane no lui dice no non ti preoccupare io prendo quella quelli che non sono né bianche né nere che hanno qualche macchia che erano come dire quelle più strane un po più imperfetti allora l'altro è già va bene allora questo mi interessa e quali si moltiplicano le altre no un po perché giacobbe ha trovato delle strategie m per farlo un po perché c'è dio che benedissi giacobbe questo un po anche la come dire il ritornello un pochettino del testo no cioè la promessa di dio si compie anche in tutto quello che giacobbe fa anche se non è fatto bene anche se un po lo fa per imbrogliare nonostante dio comunque mantiene questa promessa di fedeltà e qui diciamo quello che abbiamo detto l'altro giorno no c'è dio non è che non benedissi giacobbe si chiacobbe fa le cose bene lo benedissi comunque perché lo ama perché perché vuole ecco gratis a un certo punto ecco giacobbe decide di ritornare in patria prima tenta di farlo dedigelo alabano questo si va bene però fai ancora un po cioè si vuole che lavori tenere a un certo punto giacobbe fugge infatti all'inizio del capitolo 31 si legge allora giacobbe si alzò caricò i figli le moglie i suoi camelli e condusse via tutto il bestiame tutti gli averi che si era acquistato il bestiame che si era acquistato in padamara per ritornare dai sacco suo padre nella terra di cana l'abbano era andato a dosare il regge e rachele ruò gli idoli che appartenevano al padre giacobbe eluse l'attenzione di labano l'anameo non lasciando trappellare che stava per fuggire così poter andarsene con tutti i suoi aperi ecco allora ci sono tre motivi per le quali giacobbe vuole fuggire il primo motivo è perché è diventato abbastanza ricco per poter vivere con la sua famiglia per conto suo il secondo è se leggete un po il capitolo precedente i figli di labano parlano male di lui e lavano cambiato il suo atteggiamento è diventato ostile perché loro sospettano che questo sta truffando per prendere più pecore più capre per lui no e continuamente cambiano come dire fatti allora ne prendo quelli neri e bianchi va bene allora quelli neri e bianchi si moltiplica poi labano dice allora prendete quelli solo neri va bene allora i neri si moltiplica qualsiasi cosa fa va sempre bene per per giacobbe no quindi tutto il resto per invidia sicuramente si si arrabbiano questa è la seconda ragione la terza ragione che è quella che forse si interessa di più a noi è che lui ha un altro sogno dove l'angelo di dio dio qualche modo gli dice di andarsene è arrivato il momento ora puoi tornare con quindi ai 22 due primi motivi più umani se giunti e questo terzo motivo teologico dio si mostra dopo tutto questo tempo 14 anni e erano passati da da quello che ho visto l'altro giorno che sono tanti dopo tutto questo tempo ricorda questa esperienza del sogno che avevo visto la settimana scorsa e lei dice veri io ti ho benedetto quello che ti avevo detto l'ho mantenuto ecco dio è stato la causa principale per la quale giacobbe è stato benedetto non i suoi ingagni non le sue truffe non la sua intelligenza o la sua bravura come pastore ora tocca riempire il voto che lui aveva fatto lì aveva detto se tu mi benedizi allora io tornerò e tu sarai il mio dio ecco quindi sicuramente dio ha fatto la sua parte ora tocca anche giacobbe fare la sua poi vedremo il prossimo giorno che anche dio li prende no perché tu sarai il mio dio li fa li fa capire cosa vuol dire tu sarai il mio dio però ancora non ha capito questo e qui però c'è una nuova disavventura no perché è causata un po di giacobbe stesso perché giacobbe se ne va senza dire niente all'amore forse ha paura che li ritenga ancora che non gli dica di no che non li lasse portare il greggio e le moglie che sono le figlie perché era un viaggio lungo ecco e quindi poi vabbè c'è un ultimo passaggio dove giacobbe fugge che è la stessa cosa che aveva fatto con Esau un po' era scappato quindi alla fine qui giacobbe è un po' che fugge dei conflitti no che magari non ha il valore di dire faccia faccia senti è il momento io mi devo andare devo fare la mia vita ecco allora scappa un po' così di nascosto la cosa interessante che poi alla fine finisse bene con l'abano nonostante tutto tutti e due sono un po' feriti infatti poi si dicono le cose in faccia finalmente ma hanno bisogno di parlare di riconciliarsi perché tutti avevano un po' ingannato l'uno all'altro tutti questi anni e credo che questo sia anche una lezione interessante per noi quando ci sono dei conflitti per esempio nella coppia no possiamo avere le ferite uno può sbagliare l'altro può sbagliare a volte siamo egoisti facciamo le cose per i nostri interessi pure l'altro fa le cose per il suo interesse e noi ci sentiamo ma ci sentiamo sfruttati però anche noi lo facciamo non è che ecco allora la cosa bella che loro finiscono parlando e facendo un patto un patto diciamo di non agrezione di perdono anche di amore davanti anche a dio no e questa è una cosa bella che aiuterà sicuramente a diacobbe a quello che vedremo l'ultimo giorno che la riconciliazione con esaù che in fondo un po' al finale le storie che vi anticipo no che una storia di fraternità come ho detto anche qui abbiamo un po' visto questa storia molto travagliata di famiglia che magari ci può anche dare una luce sulla nostra vita ecco nel foglio che vi ho mandato su due pagine avete i tre testi principali e poi le citazioni degli altri io vi direi prendete uno o due per la vostra meditazione su quelli magari che pensate che trovate qualcosa no trovate qualcosa lì li escavate come ho detto più volte come domande sono un po tutto quello che ho detto mano a mano che andiamo avanti ecco li leggo velocemente finiamo sono una persona accogliente la mia famiglia sono affettuoso freddo nelle mie espressioni vado a cercare l'altro salto un po alcune cose approfitto di tutte le occasioni per andare verso l'altro metterlo in dio sono mi sono sentito qualche volta sfruttato imbrogliato qual è stata la mia reazione sono geloso di losa faccio spesso il confronto tra me gli altri o mi valuto in base a come gli altri mi vedono che tipo di schemi seguo in queste occasioni sono tante domande appunto anche le no non bisogna rispondere tutte ognuno sette liberi ecco forse se non l'avete fatto una lettura di tutti i tre capitoli così può essere interessante se non capite qualcosa non mi preoccupate perché a volte sono un po cose difficili di capire per il contesto culturali e forse questa parte un po la parte più pesantina può essere però è parte del cammin parte del percorso quaresimale è sicuramente dio vi dà qualche ispirazione niente io ho finito con questo per oggi vi ringrazio come sempre per il vostro ascolto e vi auguro appunto una buona settimana una buona preghiera una buona riflessione su questi testi